lo zaino non ce la faccio più è bellissimo questo zaino non ce la faccio perché perché lo zaino perché lo zaino un po frufru va bene bellissimo bellissimo veramente era proprio quello che volevo ieri sera ho pensato prima di andare a dormire no mi vogliono farmi fare la seconda estrazione che faccio la faccio e mi hanno dato uno sconto per fare una seconda estrazione e non so se farla sinceramente leggiamo prima i commenti e allora andrea stava aspettando auto life infatti non ho dormito il aria non è sbagliato non dormire e anche che sia ci si arrabbi perché il milan ha perso d'altronde l'inter è stata leggermente più forte ha vinto 3 a 0 e complimenti e laria per il suo disegno un bel disegno io non sono così bravo a disegnare come lei mi scrivono ancora falla 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 va bene va bene la faccio lo faccio va bene la so sto facendo l'altra estrazione come faccio ad averli li ho comprati io spendo 10 euro al mese su call of duty con la poste pay e mi danno i cp e con i cp poi faccio le estrazioni in poche parole è questo quello che faccio però come vedi le cose che voglio vincere non le vinco mai allora seconda e ultima estrazione non la faccio più non ne faccio più ciao anche a te l'ho fatto ma l'ho fatto l'ho fatto ho vinto un coltello ho vinto un coltello stupidissimo grazie 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 per la donazione se ho vinto un coltello stupidissimo mi spiace va bene chiudiamo qui questa estrazione e andiamo a vedere un po il clan che cosa sta combinando grazie per la donazione se ho vinto un coltello Grazie a tutti.